È assolutamente condivisibile perché è quanto strano, se loro ritenessero affidabile quello che dice il fidanzato avrebbero certamente spostato l'ultimo contatto comunque plausibile con la ragazza scomparsa a quando lui lo colloca, quindi la mattina della domenica. Invece loro parlano di perdita di contatti con lei la serata precedente, ciò mi dice che effettivamente non ci deve essere una grande sintonia in questo momento tra, diciamo, è legito ipotizzare che non ci sia una grande sintonia tra lui e i genitori di lei. Vorrei capire però una cosa, magari questo ci potrebbe essere utile, ma questa ragazza che storia ha? Perché insomma in queste condizioni allontanarsi volontariamente è abbastanza rischioso, è difficile che una donna comunque in quella fase della gravidanza corra rischi particolari, quindi vorrei capire un attimo che tipo di storia ha questa ragazza, se è plausibile che possa aver fatto in qualche modo un atto così sconsiderato nel senso di allontanarsi senza lasciare più nessuna traccia, senza prendere contatti con la famiglia, soprattutto il compagno, oppure se è qualcosa che in qualche modo un po' le assomiglia come schema comportamentale, perché questo è un elemento che può davvero fare la differenza. Allora, siamo tornati in diretta, stiamo parlando di questo ragazzo di 16 anni che a un certo punto entra in classe con una pistola, giocattolo e con un coltello, e poi si accanisce sulla sua insegnante, 35 sono i giorni di prognosi, ma sicuramente ce ne saranno altri, questa insegnante è appunto grave. Gli viene diagnosticato in via preliminare, se così si può definire, dottoressa Bruzzone, un disturbo paranoide, ma che vuol dire? Allora, dei tratti paranoidei verosimilmente ce li ha, perché probabilmente ha letto i rimproveri della professoressa come in una chiave persecutoria, si è sentito al centro in qualche modo di una sorta di attenzione malevola da parte di questa donna e questo può aver innescato questa rabbia distruttiva. Quindi, diciamo, il tratto paranoide mi sentirei effettivamente di confermarlo in questo tipo di condizioni, però alla base di solito c'è una personalità anche più deficitaria per arrivare al passaggio all'atto di questa portata, quindi probabilmente è anche un ragazzo particolarmente sensibile a qualunque tipo di critica negativa, e anche questo fa parte del corredo della personalità paranoide ed è profondamente rivendicativo. E questo è un aspetto che se la gioca tra la dimensione paranoidea e la dimensione narcisistica, quindi io credo che qui ci siano delle problematiche molto serie alla base, perché per arrivare a un acting out, cioè a una messa in atto di una condotta di questa portata, cioè le problematiche non possono essere esplose quella mattina improvvisamente, non è che sia accesa la patologia quel giorno come una lampadina in bagno quando ci andiamo, è qualcosa che evidentemente c'era già, il preside ieri ce l'ha detto chiaramente, non ci può dire le motivazioni che hanno fatto richiedere la presenza dei genitori per l'incontro che si sarebbe tenuto il giorno successivo, però è verosimile che lui abbia aggredito la professoressa perché già si attendeva dei rimproveri, delle punizioni da parte dei genitori in seguito all'incontro che sarebbe stato il giorno dopo, e quindi lui in qualche modo ha agito questa angoscia in chiave persecutoria purtroppo su questa insegnante. Allora mi rendo conto che è un particolare che può essere considerato irrilevante, nel caso lo dica pure dottoressa Ruzzone, perché una pistola giocattolo? Cioè ti porti dietro un'arma da guerra, perché un coltello di quelle dimensioni è paragonabile a un'arma da guerra, credo anche proprio per il, adesso sentiremo, vedo che dice il sì, l'avvocato Macripo lo sentiamo, e poi ti porti una pistola giocattolo per far paura, cioè cosa volevi fare? In realtà la pistola giocattolo credo che non fosse tanto per l'insegnante, ma fosse anche per gli altri ragazzi della classe, cioè l'insegnante era il principale bersaglio, infatti su di lui si è scaraventato col coltello. Poi probabilmente a quel punto c'era anche una sorta di autocelebrazione, guardate quanto sono in grado di fare, insomma, non sono così inerme come probabilmente lui si sentiva valutato da parte di questi altri ragazzi, quindi io credo che lì ci siano delle problematiche molto serie, anche perché Milo, se questo ha un disturbo paranoide, ancorché in età evolutiva, ma se ha già dei tratti paranoidei di questa portata, indubbiamente non credo possa aver avuto una gran vita di relazione, perché chi ha questo tipo di tratti ha enormi difficoltà a entrare in relazione con gli altri, perché legge il comportamento degli altri sempre in chiave negativa, critica, svalutante, quindi è chiaro che anche nei confronti degli altri ragazzi, se la diagnosi è corretta non mi aspetterei che fosse granché integrato, quindi la minaccia fondamentalmente della pistola, giocattolo, trasformata, senza il tappo rosso, era probabilmente un modo per spaventare anche i ragazzi, cioè l'obiettivo di questa aggressione era in primis l'insegnante, ma probabilmente non solo lei. Dottoressa Bruzzone, possiamo escludere che se uno si tiene in casa la mamma deceduta non lo fa perché non riesce a separarsi dalle spoglie terrene, ma lo fa esclusivamente per un beneficio economico, oppure no, non lo so, a questo punto... Dal punto di vista meramente statistico, indubbiamente la maggior parte di coloro che trattengono i genitori oltre il decesso per questioni economiche è indiscutibilmente la maggior parte. La truffa. Però ti posso anche dire che ci sono alcuni casi documentati a livello criminologico, sia in Italia che all'estero, di soggetti che avevano una dipendenza patologica da figure materne particolarmente dominanti e invasive, che avevano sviluppato delle patologie psichiatriche, quindi la possibilità di separarsi anche post-mortem non era contemplata. Non credo sia questo il caso, però indubbiamente è un aspetto che andrà enfatizzato. Il suicidio qui è, credo, di matrice più narcisistica, cioè mi scoprono, è terribile quello che ho fatto, quindi chiaramente la vergogna mi travolge, a quel punto il suicidio è l'unica via che mi resta per sottrarmi alle conseguenze di questa scelta scelerata. Niente del prossimo, in generale. È di origine tedesca, quindi in realtà raccontare che fosse adesso... Sì, è andata con la famiglia. ...tornata a casa, tutto sommato era plausibile, insomma. Quella lì è forse la parte più semplice da gestire della questione, è gestire una salva nell'abitazione per così tanto tempo, soprattutto nei primi due anni, perché è l'epoca in cui effettivamente, insomma, gestire la putrefazione è complicato, quindi si sarà sicuramente dato da fare. Da quello che ho letto, e quindi da indiscrezioni giornalistiche, per cui ve la restituisco come la so, parebbe che la salva sia ormai quasi scheletrizzata, quindi i tessuti non ce ne sarebbero più, per cui la causa della morte, non essendoci più tessuti e non essendoci più organi interni... Se non c'è una frattura, io adesso non volevo entrare nel dettaglio, per carità... Ma per me non c'è una parte ossea, quindi un corpo contundente, una lesione ossea sufficientemente grave, le altre cause di morte al momento non sarebbero più rintracciabili. Cioè, portarsi un cadavere a casa, peraltro ancora comunque in condizioni, insomma, volumetriche, ancora abbastanza ingombranti, quando, insomma, è morto altrove e potrebbe essere più facilmente, agitamente, diventa un po' improbabile. Io credo che sia deceduta nell'abitazione e che da lì non sia più uscita fino a quando l'hanno trovata. Si dice anche che ha agito una sola persona, peraltro, questa circostanza. Perché, dottoressa? Che c'è solo il soggetto coinvolto, perché la scelta, secondo me, di lasciare lì l'auto ha, diciamo, garantito al soggetto di potersi allontanare tutto sul fatto senza grosse difficoltà. E quella è una zona che evidentemente è stata scelta anche per questo motivo. È anche plausibile che il soggetto in questione non stia neanche troppo lontano. E conosca bene la zona. Esatto. Però anche andare in giro con un cadavere in un bagagliaio, insomma, c'è sempre il pericolo. Qualcuno ti fermi e non capita, ma se capita... Un po' imbarazzante se capita. Diventa un problema. Invece è stato abbandonato in quel punto in maniera anche un po' veloce. Un po' frettolosa. Un po' frettolosa. Sì. Un po' frettolosa. Questa macchina che dava sicuramente... Non è opera di una persona con competenze criminali particolarmente evolute. Quindi, realisticamente, la motivazione alla base di questo delitto è da ricercarsi nella sfera personale della vittima. Non ci ha fatto... Non l'abbiamo visto piccola Nazare. Però, in compenso, è entrata la Guardia di Finanza, è entrata la polizia locale a fare degli ulteriori... Dottoressa Bruzzone, degli ulteriori, diciamo, approfondimenti per cercare di capire cosa accade in queste comunità religiose. Rispettabilissime. Quando bussano loro è un po' più complicato, diciamo, tenere chiusi i cancelli, fondamentalmente. Ma l'atteggiamento, ripeto, io in questi giorni ho un po' approfondito la figura di questa persona. Devo dire, insomma, ho letto parecchie cose, parecchie persone molto preoccupate relativamente a questioni che riguardano alcune persone che si sono avvicinate a quest'uomo e chiaramente temono che possa accadere qualcosa di negativo a figli o comunque a persone con problematiche di fragilità psicologica. Io non so se questo chiaramente sia il caso, però certo il numero di segnalazioni che c'è in giro è veramente molto elevato, quindi un po' di attenzione la destra sicuramente. Se non ci fosse qualcosa di... comunque di poco chiaro, probabilmente non ci sarebbe tutta questa attenzione su questa persona. Peraltro è anni che si parla e si discute di lui, perché per arrivare a ricevere quella che è sostanzialmente la misura più grave che a livello ecclesiastico si possa prendere o giù di lì, insomma, se non è la più grave quella subito dopo, vuol dire che ci sono dei comportamenti che sono stati valutati dalla Chiesa come completamente incompatibili rispetto a quelli che sono chiaramente i dettami della religione cattolica e soprattutto di quello che deontologicamente dovrebbe fare chi ha investito di questo ruolo così importante a livello sociale oltre che ecclesiastico. Quindi credo che sia una persona su cui è bene accendere i riflettori.